Sono 1.304 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 40.433 test esaminati. Il tasso di incidenza del 3,22% in calo dopo l'impennata dei giorni scorsi, ma la situazione resta preoccupante. Sette le nuove vittime, di cui sei nelle ultime 48 ore. Ben 23 in più del giorno precedente i ricoverati in degenza, che salgono a quota 381, mentre quelli in terapia intensiva sono 28. E dopo la proroga dello stato di emergenza da parte del Governo, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anticipa tutti e annuncia due ordinanze per una stretta lamovida. Credo che fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Quindi firmerò delle ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po' su di giri, come è inevitabile che sia a Capodanno. Facciamo i controlli, ma che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato analoghe misure e sul concertone di piazza Plebiscito si studiano alternative all'evento live. La prudenza non è mai troppa, quindi dobbiamo evitare che si rianimi la pandemia e riuscire a gestire questa nuova andata. Quindi è opportuno se ando letto. Io ritengo che sia opportuno. Intanto una sommossa è stata inscenata da un gruppo di detenuti del carcere di Santa Maria Capovettere dopo la notizia che uno di loro era risultato positivo al Covid. Oltre a devastare la corsia della sezione nella quale erano ristretti, i detenuti hanno aggredito due agenti rimasti feriti.